Innovazione, giovani, talento e meritocrazia. Questo è molto altro alla conferenza di presentazione a Milano, agli uffici del Parlamento Europeo, della settima edizione del premio ANGI Oscar dell'Innovazione. Uno straordinario successo di pubblico e di contenuti, con importanti esponenti delle istituzioni della città di Milano, ma soprattutto con la special guest Federica Masolin, volto straordinario della comunicazione italiana, che ha ricevuto come nostra testimonial l'Innovation Leader Award. Una conferenza che ha evidenziato tutti i punti cardine della cerimonia che andrà in scena il 4 dicembre prossimo al Tempio di Vibbia Sabina e Adriano a Roma, con il gota delle istituzioni e del mondo delle imprese, a suggerire l'importanza di investire nei giovani e nell'innovazione. Come Associazione Nazionale Giovani Innovatori siamo liati di vivere da protagonisti questo importante percorso al fianco del mondo delle corporate, delle istituzioni, del territorio, ma soprattutto rilanciando quel partenariato pubblico-privato fondamentale per vincere la sfida della nostra generazione, mettendo al centro un rinnovato umanesimo digitale in cui l'innovazione sia di supporto, ma sempre con l'uomo al centro. E oggi abbiamo evidenziato, anche grazie alla testimonianza della nostra Federica Masolin, l'importanza di ispirare le future generazioni e sostenere i giovani leader del futuro. E, allo stesso tempo, analizzando attraverso il nostro centro di cerca ANGI e il nostro centro studi con Lab 2101, tramite il nostro professor Roberto Baldassari, i dati di come si muove l'ecosistema economico e sociale del digitale. E la prossima analisi sarà presentata proprio il 4 dicembre per analizzare in modo completo quello che è il nostro osservatorio, primo osservatorio italiano, sullo stato dell'innovazione in Italia. Vi aspettiamo il 4 dicembre con tutti i protagonisti della settima edizione degli Oscar dell'innovazione.